Quali competenze sviluppare per studenti e corpo docente nel quadro di un rafforzamento generale dell'istruzione? Parliamo ovviamente appunto di competenze, formazione digitale e ancora al centro appunto di Recovery Plan, di Recovery Fund. Abbiamo moltissimi ospiti in questo appuntamento appunto live con Eonews, siamo live non solo sui canali di Eonews ma anche sul sito di radioradicale.it che ringrazio. Sarà un appuntamento ricco di ospiti e anche ricco della vostra partecipazione. Ricordo che questo incontro lo potete seguire anche in altre lingue perché c'è la traduzione visto che i nostri ospiti sono diversi. Ci sarà anche lo spazio per un confronto per partecipare a un sondaggio proprio relativo a questo tema. Ovviamente poi dalla regia mi daranno segno per raccontarvi del appunto del sondaggio a cui andrete a partecipare che leggeremo e seguiremo nel corso di questa diretta. Intanto introduco i nostri ospiti, grazie per essere con noi a Riccardo Nencini, senatore e presidente della commissione d'istruzione. Buongiorno, buongiorno. Dovrebbe raggiungerci anche Victor Negrescu, diputato europeo. C'è già con noi Susanne Conze, commissione dell'Unione Europea, ovviamente, commissione europea, capo dell'unità Country Analysis in Education di EGIEAC. Grazie, è bello di essere qui. Grazie per essere qui. Abbiamo in collegamento anche Stefano Versari, ministero di istruzione, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e ancora Antonio Ranieri, centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, capo dipartimento Learning and Employability. Grazie per essere con noi. E grazie a Valerio Mammone, direttore editoriale di Scuola Azù. Insomma, capite anche dalla varietà dei nostri ospiti che il dibattito sarà ricco e ricco di spunti. C'è anche, in questo momento ci ha raggiunto l'eurodeputato Victor Negrescu, a cui darò subito la parola, non prima però di ricordarvi qual è il focus del nostro sondaggio, il sondaggio proposto da EO News. Temi che le competenze digitali possano indebolire l'insegnamento della cultura generale, quindi diciamo così, queste competenze sempre più scientifiche, sempre più tecniche, in Italia da una parte incuriosiscono e da un'altra, come dire, si teme un paese che è ricco di cultura umanistica e quindi della cosiddetta cultura generale, dell'insegnamento in generale. Potremmo, ovviamente, lo ricorderemo nel corso di questa ora di diretta, ma intanto voi, come si vuol dire, dateci sotto e dateci le vostre impressioni, i vostri pareri su questo spunto. Intanto, se l'eurodeputato Victor Negrescu è con noi, gli darei subito la parola con una prima domanda per entrare un po' nel nostro tema. Intanto, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, sono contento di essere qui a parlare in inglese. Grazie mille. Grazie per me oggi. Allora, la domanda è come rientra il tema della formazione digitale nell'agenda europea? Avremo mai, secondo lei, una uniformità nell'offerta scolastica e universitaria dei vari paesi membri? Perché noi parliamo sempre di Unione Europea, di maggiore uniformità di politiche, ma anche questo è un tema che fa, rende più unita l'Europa, rende più unito le nuove generazioni, rende più unito anche un mercato del lavoro che diventa così più uniforme per competenze e per potenzialità. E da questo punto di vista, se ci può raccontare se in questo senso o in altri sensi ci sono iniziative interessanti da parte del Parlamento Europeo? Sì, questo è un tema molto importante. Of course, Europa è faceva una transformazione, una digital transformazione, e questo è anche per l'Italia, per molti paesi. E non possiamo solo aspettare per questa transformazione a happen, abbiamo bisogno di planare e reagire in una certa forma. E, ovviamente, di sviluppare skills, competenze, among young persone, ma non solo per gli altri, è una cruciale task per tutti. e in questo riguardo, ovviamente, il risultato di recovery plans, deve fare un'essenziale role in implementare e in sviluppare questa specifica strategia in dealing with digital skills. Ma digital skills, you know, cannot be developed by simply pushing a button. You know, sometimes we believe that we decide, from one day to another to implement a strategy and develop digital skills among people, but this cannot be possible. Because first of all, in order to do that, you need teachers to train people how to have those specific skills. And this is hard. It takes time. And also convincing people with digital skills that can very well and very easily find a job on the private market, very well paid to become professors. This is not easy with the salaries that professors receive in different industries. So this is a crucial and very important topic that we need to deal with at a local level. In the same time, when we speak about digital skills, we cannot speak anymore about only one set of digital skills. You need digital skills if you want to become someone working in the car industry. You need digital skills if you want to work in a factory. You need digital skills if you want to become a teacher. You need digital skills if you want to become a doctor. So they require different sets of digital skills. We don't have a common framework of digital skills that are required for each of those individuals. So we need to identify those specific skills that need to be developed. And before doing that and developing that, and you said that very well, Valeria, in your intervention, you need to develop core competencies, core skills, which can be technical, but also can be from the field of human studies because you need creativity. You need logic. You need to understand mathematics, basic mathematics. You need all of that, of course, before learning digital skills at the level that is required on the labor market. So, of course, in this regard, the European Parliament has developed a report that I have drafted. This is the reason why I have been invited today. I'm the vice president of the committee in charge of culture, education, use, media, and sports. and I also was a reporter in the European Parliament on digital education at the European level. And in our report, we speak about those challenges, but also we speak about the need to allocate adequate resources from the recovery plan. So we have the 20% allocation for digital transformation from each recovery plan that should be allocated as such by each member state. We also called for and made the recommendation that 10% should be focused on education. And we speak about and we loaned this initiative that the commission also supports to have the digital education hub, so a stakeholders consultation platform. So basically develop structures where experts in the field of digital education meet at national level, but also at European level and develop those specific strategies. we want to fix at European level clear targets. What is the level of digital skills that we want in each member state? And in my opinion, we should look at regions also because there are some regions that are doing better and some regions that are not doing anything in this regard. We also have to speak about the infrastructure that we have in place, the tools that we have in place, the curriculum that we have in place for that. And this is very hard to deal with, especially at European level because every country is developing with their own choices. We also have to speak about the digital platforms, but also we have to speak about methods. Sometimes we ignore that and that we need specific methods to train people to use digital tools, but also to train people to have digital skills. So a lot of elements that can be done together, but we need synergies because there are wonderful things happening in Italy that I'm not aware about from Romania or from Brussels. There are wonderful things happening in my country, in Romania, that you are not aware of. or things that are happening in Finland, for instance, or one in Portugal. But we are not exchanging enough on those issues together in trying to come up with a European strategy. You know, we are so much dreaming about having a European Silicon Valley that we forgot what we are as a Europe and that we need to embrace the diversity and use those knowledge together. And one of the core elements that you underlined very well in the initial question is to develop a common set of skills that are required since the beginning from an early age, as earlier as possible. Because, you know, and this will be my last comment, you know, young people are digital natives. You give them tablets, they know how to use them. It happens naturally almost, but it's not enough. You know, you need to teach them and that new infrastructure offers a lot of opportunities but also raises a lot of risk and they have to know how to use that. It's not enough to know how to use Facebook or TikTok or send an email. You need to know more than that today. And I really hope that we can have a common perspective on that. And I really believe Italy can offer a lot to the rest of Europe in this regard because you have wonderful people doing a lot of new things, very interesting things, NGOs, and those new startups that they will be more than happy to hear about and to promote the European level. Thank you so much. Microfono. Grazie. Thank you, Victor Negrescu. Le vorrei fare just last question before you go. Perché so che ci deve abbandonare presto. In che modo, secondo lei, diciamo, ha risposto in molti modi alla domanda che le ho fatto, ma diciamo che l'Europa ha un'offerta formativa molto ampia e molto diversa da paese a paese. Fino a qualche tempo fa lo è ancora e soprattutto prima della Brexit, ad esempio, la Gran Bretagna ha rappresentato un altissimo livello, un benchmark per l'istruzione di qualità e probabilmente anche un'istruzione più votata non solo alla ricerca di alto livello, ma anche a una maggiore connessione con il mercato del lavoro. Secondo lei, quali sono i paesi in Europa che possono, come dire, fare da benchmark a quelli che sono in questo momento un po' più carenti sia per offerta formativa che per numero di laureati? Perché sappiamo, per esempio, il nostro paese come in Italia ha una grande tradizione universitaria alle università più antiche della storia, ma non sempre riesce a traghettare bene i propri giovani fino alla laurea e non sempre li riesce a mettere in connessione con il mercato del lavoro, con il mercato del lavoro del presente e del futuro. Chi può, secondo lei, più fare da apripista su questo, dare un esempio a cui gli altri possano ispirarsi? I think we have best cases or positive examples across Europe. So, for instance, my country has one of the fastest internet in the world in Romania. Estonia is really good in digitalizing the public administration. Finland is really good in digitalizing education. I see France doing some great things in developing SMEs in the field of the digital sector. I see Greece welcoming workers that are working remotely and they are doing things around that. there isn't a country that is the perfect example in Europe, but each of the countries has things that we can learn from and we have to know about that and promote that. So, if I would be in Italy, very frankly, what I would search into doing as a decision maker is really to look a little bit at the different countries but also see the potential that you have. You know, I see that also in my country. Sometimes, by living in my country, I cannot, I do not only see the thing that the country is doing, but I see, for instance, Italy from outside. And for me, from outside, I know, for instance, in Brussels, you have people that are very visible on digital issues. I think you should bring those people back in Italy and work with them. I met digital entrepreneurs coming from Italy that are very bright and they can be very good examples for young Italian people to to be encouraged in learning digital skills because they are a positive example and everyone wants to, coffee is a positive example. So maybe you should, you know, give them more visibility. In the same time, your universities, and again, I'm saying from outside, they are known all over the world and especially across Europe. And I think what needs to be done there also in investing more in teachers having this digital, let's say, openness, which is not always easier to change. I'm a university teacher. I change my methods from time to time, but it's not easy and not an easy process. And I would love to be helped. And I imagine Italian teachers and I know many Italian professors, they want to be helped as well. So maybe in parentheses and working with them together, you can identify the best solution with technical schools, but also with humanity schools, because I think there is a lot of potential and I think you should trust more what you can do because we looked at your recovery plan for instance. and in your recovery plans you have some great ideas on digital aspects and I think from our side being also a member of the budget committee in the European Parliament, I'm really keen to see how you are going to implement those ideas because a couple of them are really good. Hope so, hope so. Thank you Victor Negresco to be here. Grazie, buon lavoro. Intanto andiamo avanti nella nostra ora insieme di diretta appunto qui sui canali di EO News e sui canali di Radio Radicale.it siamo in diretta in entrambi appunto i device come si dice. Intanto vi ricordo prima di dare la parola Riccardo Nencini il tema del nostro sondaggio. Credete che le competenze digitali possano indebolire l'insegnamento della cultura generale? Insomma in qualche modo riprendiamo appunto il match tra cultura umanistica, cultura generale e cultura tecnico-scientifica. Grazie appunto a Riccardo Nencini senatore, presidente della commissione istruzione per essere con noi. Le faccio faccio anche a lei la prima domanda, istruzione, parliamo di istruzione Next Generation EU dopo le difficoltà della pandemia è arrivato anche per la scuola in Italia un momento di svolta grazie ai fondi europei abbiamo visto una scuola in grandissima difficoltà in questi ultimi mesi non solo per le difficoltà che tutti abbiamo vissuto per la pandemia ma perché insomma questo progresso digitale non era proprio arrivato diciamo il corpo docente non era non era pronto alla cosiddetta DAD secondo lei quali sono i nodi difficili ancora da sciogliere per avere non solo una scuola che prepari alle sfide del digitale ma che insomma riesca ad acciuffare un futuro che ormai è già qui che sta cambiando le nostre competenze i nostri nuovi lavori il mercato del lavoro che abbiamo davanti e aggiungo finora il dibattito sulla scuola si è molto incentrato tra autonomia scolastica necessità di più fondi ma forse è meglio parlare di soldi meglio spesi e forse anche una valutazione capillare non solo per gli studenti ma anche per il corpo docente domanda facile facile microfono mi raccomando buonasera e grazie grazie per l'invito dividerei il problema in due parti per mettere mani e piedi nel piatto della minestra come si dice in Toscana c'è una una condizione di emergenza che bisogna affrontare e che l'Italia non ha affrontato con la decisione e considerando la scuola come prioritaria è inutile girarci intorno abbiamo detto la scuola è prioritaria ma insomma non abbiamo avuto comportamenti tali da mettere in campo misure immagino ad esempio tutto il tema della logistica e dei trasporti o le vaccinazioni immediate tali da consentire al corpo docente a ragazzi e ragazzi di poter avere una presenza più alta in presenza che non in dat e quindi abbiamo sprecato una buona parte dell'anno scolastico che si sta concludendo in questi giorni e quindi la transizione prevede che l'anno scolastico 21-22 possa partire questo è auspicabile in maniera decisamente diversa rispetto all'anno precedente e quindi anche in questo caso trasporti vaccinazione e sistemazione del mondo dei precari che in Italia è un numero incontenibile dentro le misure che abbiamo indicato al governo come commissione dentro il recovery c'è una previsione anche di riforma scolastica si parla di costruzione di nuovi edifici scolastici ma legati a una nuova tipologia di didattica ad esempio si parla visto che l'Italia non è la Francia noi abbiamo zone appenniniche estese molto vaste dove la chiusura delle scuole significa chiusura di fatto dei centri abitati e quindi vanno previste scuole di territorio per arrivare alla sua domanda le indicazioni che abbiamo dato sono più matematica nessuna rinuncia alla storia c'è stato un momento dove l'insegnamento della storia soprattutto della storia contemporanea decisivo per capire non solo chi siamo ma dove possiamo e dove vogliamo andare decisiva e tutta la parte che riguarda l'informatica le abbiamo messe in un blocco unico che andrebbe seguito con una certa pervicace con una certa determinazione secondo abbiamo indicato alla RAI l'opportunità di mettere a disposizione un canale televisivo nel primo nel secondo nel terzo ma la RAI ha una vicina di canali disponibili per tutta la parte che riguarda l'alfabetizzazione digitale perché c'è un problema di insegnamento di quella natura ma c'è un altro problema noi abbiamo una percentuale altissima siamo tra i primi purtroppo in Europa dove l'uso del computer è simile all'uso della macchina da scrivere più o meno quindi tutta una serie di funzioni collaterali che si legano all'apprendimento e alla conoscenza ci vengono siamo deprivati con una responsabilità soggettiva che non è indifferente terzo la formazione dei docenti voglio sottolineare però subito un aspetto sì che i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza saranno importanti ma nel corso della pandemia l'Italia ha già impegnato tra il marzo 2020 e l'aprile 2021 circa 200 miliardi nei vari settori della pubblica amministrazione oltre che per ristori e sostegni una parte di questi circa 2 miliardi 2 miliardi e mezzo sono andati alla scuola per consentirne l'apertura ma per consentire anche un'adeguatezza del sistema digitale migliorando la relazione fra nord e sud perché abbiamo un sud dove questo servizio è abbastanza carente e soprattutto mettendo denaro sulla formazione perché? perché la DAD che abbiamo conosciuto nel corso di questi mesi non è la DAD che può rimanere in forma stabile lo dico in maniera ancora più chiara non può rimanere salvo che per stato di straordinaria emergenza e quindi di necessità con una durevolezza temporale di questa natura esagerata esagerata anche perché la DAD non è semplicemente avere un computer davanti ma si deve saper fare questo è il secondo punto il primo punto è non si può insegnare soltanto attraverso la DAD salvo per condizioni di straordinaria emergenza bene non dico emergenza dico straordinaria emergenza quindi raddoppio è uno simolo in raddoppio secondo va ripensata la DAD perché la DAD che abbiamo conosciuto lo ripeto non è la DAD come diceva lei non basta il computer le persone davanti e dietro il computer che ti dicono cosa fare è un esercizio così elementare da reputarsi insufficiente per l'apprendimento la condizione ideale quindi sarebbe tornare in presenza A B consentire lezioni anche in DAD ma con una DAD completamente diversa questo richiede due tipi di formazione anche perché anche in presenza si debbono utilizzare dispositivi tecnologici anche solo fare delle lezioni non con la lavagna ma con una lavagna elettronica con dei power point insomma richiede una doppia formazione formazione per i docenti e formazione per le ragazze e per i ragazzi non basta la formazione soltanto da un lato per chi deve insegnare ma anche per chi deve recepire e per chi deve interloquire perché l'insegnamento non è tizio parla e caia ascolta ma è un'operazione decisamente un po' più un pochino più complessa e coinvolgente e secondo lei appunto toccando l'altro punto che le dicevo la ricetta oggi per cambiare la scuola al di là delle appunto delle integrazioni importanti su tecnologia sarà più soldi meglio spesi e si continuerà sul terreno della buona scuola quindi dell'autonomia scolastica e possiamo aggiungere a questo anche un sistema di valutazione che funzioni che metta anche in concorrenza gli istituti per scegliere perché ognuno di noi sa che i propri figli o i propri parenti vanno in delle scuole buone o no sostanzialmente per passaparola se ci fosse anche in termini di digitalizzazione un accesso ai dati un accesso alle performance scolastiche alle valutazioni dei professori a quanti si sono diplomati in quella scuola tutta una serie di indicatori che fossero davvero fruibili per le famiglie in modo attendibile e oggettivo non sarebbe appena meglio beh sarebbe tolgo la pena e direi meglio sta arrivando ora in valutazione alla commissione che presiedo un disegno di legge che riguarda la nascita la formazione di una piattaforma digitale nazionale in modo tale da rendere omogeneo anche dopo la formazione una forma di insegnamento che si leghi anche a questa tipologia di insegnamento ripeto la mia opinione è che renderla esclusiva sarebbe un errore omerico rinnovarne i contenuti utilizzarla in maniera diversa invece è utile non solo a colmare delle voragini ma è utile a rendere più attivo e più interpersonale anche l'insegnamento aggiungerei lei mi parlava di quale tipologia di riforma metterei tre cose sul tavolo una è quella che abbiamo già detto anche con le sottolineature e le spigolature che condivido che ha fatto lei secondo l'insegnamento deve essere multiforme c'è una vecchia battuta che faceva il mio professore di filosofia citando un filosofo presocratico e diceva secondo voi è meglio la volpe che si muove in molti campi diversi o è meglio invece un altro animale che ha soltanto una conoscenza perfetta del suo territorio c'era un bellissimo film su questo una commedia di Alan Bennett tradotta in un film bellissimo che chi non ha visto lo recupera perché è una versione diciamo commedia ma neanche troppo del cosiddetto attimo fuggente che si chiama The History Boys che narra la storia di alcuni ragazzi che si preparano quello che è l'ultimo anno l'equivalente all'ultimo anno di Inghilterra per affrontare i famosi esami di Oxford e Cambridge quindi per entrare nelle migliori università c'è un professore che parla loro dicendo la conoscenza non è universale la conoscenza o è specifica o non è e questo mi sembra un buon modo di intenderla beh io tifo io tifo invece per la categoria della multiformità sì sì lì invece dicevano infatti questo è molto tipico della cultura anglosassone di cui parlavamo prima lo so benissimo quindi bisogna trovare un giusto mix tra la specificità anche perché molti di noi cambieranno lavoro probabilmente molte volte nella vita e dovremmo cambiare accanto al lavoro soprattutto un proverbio che è soltanto italiano che è moglie buoi dei paesi tuoi i proverbi molto spesso hanno torto in questo caso questo proverbio ha avuto per lunghi anni legato all'Italia ragione siccome dobbiamo cambiare dovremmo cambiare talvolta o spesso lavoro nella vita i nostri figli allora meglio avere una multidisciplina a disposizione la terza cosa riguarda gli insegnanti gli insegnanti non sono rispettati non hanno uno stipendio che li faccia rispettare beh bisogna alzare lo stipendio formarli meglio sottoporli anche a forme di di valutazione nel corso della loro della loro vita nel corso della loro vita di lavoro e però l'insegnante ti può cambiare la vita e siccome ti può cambiare la vita beh allora va pagato per quanto si deve per quanto è giusto che sia il merito poi ci arriviamo anche con Stefano Versali del Ministero dell'Istruzione perché saprà dopo lo sentiremo che insomma qui lo dico anche Nencini che il tema della valutazione degli insegnanti è un tema su cui sono capitolati un sacco di ministeri c'è un antico detto del chi tocca i fili della valutazione delle scuole muore praticamente quindi sappiamo benissimo che non è semplice per tanti motivi per i sindacati scolastici perché anche quando si parlava di autonomia scolastica di buona scuola insomma è successo di tutto insomma il mondo della scuola è sempre difficile da riformare per tante ragioni anche per delle categorie sindacali inutile non dirlo molto molto forte molto resistente al cambiamento ce la faremo secondo lei Nelcini non la sentiamo per gradi ma con qualche strappo necessario per gradi ma con qualche strappo e l'emergenza è il momento probabilmente migliore anche per qualche strappo questo è il suggerimento grazie a Riccardo Nelcini ricordo grazie a voi buon lavoro senatore presidente della commissione di istruzione buon lavoro a lei grazie e abbiamo adesso Susanne Cons Commissione europea capo dell'unità country analysis in education e con lei credo che potremo affrontare un po' più da vicino anche qualche dato già che le chiedo che cosa emerge dai dati dalle ricerche più recenti in tema di istruzione nell'Unione Europea e abbiamo secondo lei intanto delle situazioni per livello per livello di istruzione per alfabetizzazione per rapporto scuola mercato del lavoro troppo eterogene dove si riscontra diciamo i migliori diciamo i maggiori gap e in quali fasce della popolazione in quali paesi europei dal suo osservatorio ci staggiano thank you very much i try to give a first try of an answer to that and i think the easy or the one sentence answer would be that all european countries face similar problems maybe to a different extent and there i would also second very much Mr. Negrescu saying that we can learn from different countries so there is not a clear cut picture that one country is ahead of all the others always performing much it is rather that countries are facing same issues but in different levels different extent and looking for their different solutions and i think the question of skills for the future of digital skills but also green skills it's a bit the same is a key issue for all countries and all countries are looking at questions of curricula of digital education with how to organize education better and how to make it also come to better outcomes and results so at European level we have an exchange among countries and that is very helpful and one of the results of this is also that the European Commission proposed a digital education action plan which brings a little bit together these challenges were already partly discussed in this round so on the one hand to invest in digital education as such in the content but also to invest in exactly for data and what we know and with data and comparable data especially it's always a bit tricky because surveys are not necessarily always up to date and sometimes they are a little bit older so for example on digital skills the last survey we have dates from 2018 and ICILT is the short form the international computer and information literacy study and there we see that and this is a bit shocking that digital skills and one takeaway from that is that being a digital native as it is often quoted is not necessarily meaning that you have automatically good digital skills so there is overall and across the board the need to do something in this survey not all member states have participated but also when we look at the results there are difference between member states but there are lots of difference within member states in this context we also have to go further on adult education there the picture is even a little bit more daunting with more adults and especially the older they get the less they have digital skills on the average range but we also see both for children and for parents a quite dramatic or quite clear divide according to socioeconomic background and I think this is also one thing which we have really seen in the crisis now and during the pandemic when countries had to move immediately to remote learning and use digital tools they were to a different extent prepared to do that but what we saw that in many countries a certain extent of young people children simply could not attend because they were locked in connection at home they had not the right tools there there was not enough there were not learning for all members of the family plus maybe tailor working from home and so on so there this is one thing where we have really seen that there is a need to invest in also digital education on that level very simple and really to look also concretely at the availability of tools and measures to avoid a digital divide and a growing digital divide in that context another point I think where where we see difference in member states of course some member states had already started relatively early on in developing digital education so they had a little bit easier start in the pandemic when schools had to move to remote learning but overall we see differences in the preparedness of teachers the ability of teachers to move to digital learning digital tools so their teacher education I think comes very much into the four of things to look at the question of content I mentioned already so that there's also enough digital content there and that there are also enough concepts for digital education and I think this links very much to the last speaker because I think there is not just a kind of understanding that we have done something in the classroom now we move it digital and and there is much more discussion exchange needed how remote learning how digital education can also be of an additional benefit to schools by for example supporting more strongly pupils with learning difficulties to differentiate more in the classroom to help and learn in a different way and maybe I would leave it for the moment at this point what we have also seen now in the last time I would have to ask a question if I can because it touched a couple of very interesting about learning type of teaching and what are our gaps but it seems that the pandemic has put to the center the theme of training for everyone that it is a training of different but especially that it is a digital and a distanza ha rimesso in gioco anche non le giovani generazioni ma anche quelli che sono più in là con l'età questo che cosa significherà secondo lei che andremo verso un presente un futuro in cui si faranno molti corsi a distanza anche le persone over 30 anche le persone là con l'età che ci si rimetterà a studiare che si cambierà più spesso lavoro e quindi ci si metterà a studiare cose più specifiche per blocchi di volta in volta che futuro nella formazione anche per adulti immagina perché oggi si immagina un percorso molto lineare no le scuole poi le università poi se c'è un dottorato o una specializzazione invece adesso sembra che un po' le cose si stiano rimescolando no la formazione continua però formazione continua vuol dire tante cose però può anche dire può anche voler dire avere dei momenti in cui ci si dedica ogni tot anni a rimettersi in gioco a studiare a cambiare idea a cambiare professione oppure anche solo per il proprio piacere personale come si attrezzeranno ovviamente anche quelli che fanno formazione per offrire più opzioni Well I think we will probably see all kinds of forms and a nice mixture of everything so on the one hand what has become clear and not only due to the pandemic but also due to all the changes we are experiencing now worldwide is that there is a need for upskilling and reskilling as it is so nicely called so for a constant improvement of your own skills for a constant investment in that simply for society to cope with all the challenges we are facing as societies but also for the individual to be employed to be able to get employment to be active in society and so on So I think this is a dramatic shift. What we will see is that there is a need to do more training in the companies and on the job we will see that There is also discussion more on so called micro credentials at universities. I have behind me a picture on the European universities which was only to make the background nicer But universities in Europe will play a key role to develop smaller modules of training for people who would need to upskill and to increase their competences within the job and being already in a career or maybe changing a career So I think this will be really more but I'm not really sure if it will be all digital and I think it doesn't have to be I think we need to have a kind of mixture where we can combine it depending on the life situation of the learner So if I'm very busy in my job and I can't go during the day to a training course I can't attend it and digital learning might be an alternative for me It might be something complementary to a training course in presence Some things we might not be able to move to a digital contact especially if you go into the vocational education and training there of course you need much more hands on things as well But I think there we will see broader investment and also need of countries to invest stronger And the European Commission has some proposals made within a skills agenda within other documents on how to move forward on this And yeah, one thing also maybe to close with that I think one key point I would like to make is that we have to move to become learning societies This is always the kind of Sunday speech, let's say, but we see at the same time if people stop learning it is difficult to start again And we see that adults with low skills are less agile in the chance to improve their skills So normally it is the higher you are already educated or skilled, the more easier it is for you to continue Which means that we really have to in a way also address this early on in education That you don't stop at the end of school with 16 or 18 or after higher university and then you are done with learning No, it is a learning society where parents learn what children learn where everybody has to move on Grazie davvero a Susan Conce, ricordo Commissione Europea, Capo dell'Unità Country Analysis in Education Grazie per le sue risposte E ovviamente a proposito dei reskilling, upskilling e delle nuove competenze da formarsi E anche dal modo in cui formeremo le nuove generazioni anche con una certa, come dire, capacità di essere resilienti Parola abusatissima ma davanti ai cambiamenti, al cosiddetto cigno nero Perché poi è questo quello che è successo e quello che probabilmente potrebbe succedere in futuro Quindi sapere immaginare velocemente i piani A, B o C Parliamo di questo ma anche di altro, di come dobbiamo cercare di riformare l'offerta scolastica in Italia Con Stefano Versari del Ministero dell'Istruzione, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione Intanto grazie, in collegamento Buonasera a lei, buonasera a voi Il dibattito, come ha sentito, è molto interessante Abbiamo voci europee, voci italiane, molto qualificate Per venire a noi, dottor Versari Insomma, abbiamo detto anche con Nencini Che evidentemente non è bastato e non basta avere un PC per fare la DAD Né per i docenti né per gli studenti E che per fare imparare con i nuovi studenti I nuovi strumenti studenti e professori Devono fare un percorso diverso rispetto a quello che hanno fatto finora I fondi che abbiamo a disposizione Quanto ci aiuteranno per fare questa trasformazione Una formazione di qualità E ce la faremo anche con un corpo docente Che, insomma, per ammissione di tutti È un po' in là con l'età E che non ha una grande familiarità con il digitale Questo, insomma, è inutile mettere la polvere sotto il tappeto Il problema esiste, insomma C'è chi dice Bisogna aumentare il turnover Bisogna inserire più giovani nel corpo docente Insomma, come l'accompagniamo questa transizione? Lei mi pone una domanda di quelle Sempre facili Qua solo quelle facili facciamo Le risorse, in realtà, da almeno sei anni a questa parte Sul tema della digitalizzazione sono molte, sono intense, sono importanti Nel piano del PNRR ci sono altri 800 milioni per la digitalizzazione Ci sono 3 miliardi per la transizione delle scuole a 4.0 Quindi la digitalizzazione, appunto, dei locali scolastici Perché il problema è non solo avere i computer Ma avere poi anche le connessioni E connessioni possibilmente ad alta velocità Come sempre siamo un paese Abbastanza variegato al suo interno Abbastanza è un effemismo Ma in realtà non è vero che non ci sia Una competenza diffusa sul tema del digitale Ci sono moltissimi insegnanti che hanno queste competenze Il problema, il punto, è che noi abbiamo Fra tutto, fra personale docente, personale collaboratore Scolastici è la più grande impresa al mondo Come numero di dipendenti Noi superiamo di 1.100.000 persone Allora è chiaro che su un contingente così vasto di persone Uno ci si deve dare dei tempi E soprattutto abbiamo bisogno di crescere in riconoscimento E credibilità che negli altri paesi c'è E in Italia non c'è Ma non per demerito della scuola italiana Non devo difendere nessuno Se uno va a vedere gli indicatori OX Noi non demeritiamo rispetto agli altri paesi E c'è un'abitudine tutta italiana Di non apprezzare, di non stimare quello che si fa Ci sono un'enorme quantità di esperienze innovative Per il digitale a scuola Per l'utilizzo del digitale nelle scuole Nel tempo Covid sono state fatte online decine di migliaia di corsi E poi è chiaro che ci sono persone che non avevano competenze Che si erano attardate Ma d'altra parte noi abbiamo una legislazione Che difficilmente ci impone Ci consente di imporre una formazione E quindi questo è un bonus Ma in realtà il tema del digitale è saldamente nelle scuole italiane Non per sostituire carta e penna Ma per integrare il percorso di insegnamento del docente Senza il docente le nuove tecnologie non servono a nulla Ecco, mi sentite Ecco, le volevo chiedere un'altra cosa Prima, insomma, poi di passare agli altri relatori Pensa, lo chiedo Le faccio la stessa domanda che ho fatto anche a Nencini Pensa che il tema dell'autonomia scolastica E dei sistemi di valutazione Saranno sempre più il futuro della scuola? Ci saranno da un punto di vista dei cambiamenti? La valutazione nel gruppo di lavoro che vent'anni fa Iniziò il primo nucleo del sistema nazionale di valutazione Noi abbiamo un sistema nazionale di valutazione Riembarsi che ci è invidiato a livello mondiale Il problema in questo momento non è avere le informazioni Avere i dati Ma è utilizzarli e saperli utilizzare Prima ascoltavo le cose che dicevate Per esempio, quante persone sanno che se uno va su un sito Nel ministero di istruzioni clicca scuola in chiaro e si trova per tutte le scuole italiane Una marea di informazioni Anche circa il valore aggiunto che fornisce la scuola Il valore aggiunto è se tu parti da 10 Quanto io ti ho dato? Perché se parti da 0 e ti ho portato a 10 Ho ottenuto grandi risultati Ma se tu partivi per un contesto di provenienza da 9 Ti ho dato poco Il calcolo del valore aggiunto È un calcolo estremamente complesso Che deriva da tutte le valutazioni invarsi Ed è pubblico sulla scuola in chiaro Ma strappi il sito e uno vede se quella scuola ha come valore aggiunto Un valore aggiunto medio rispetto a livello regionale e rispetto a livello nazionale Superiore o inferiore Leggermente inferiore o leggermente superiore Cioè ci sono una marea di informazioni Quindi lei dice che bisogna farli conoscere di più In realtà questa infrastruttura c'è Io dico che forse bisogna capire che il sistema di istruzione è un sistema estremamente complesso Che le risposte semplici o semplicisti che non fanno bene la scuola Grazie davvero a Stefano Versari Il Ministero dell'Istruzione Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione Grazie per la disponibilità Grazie a lei E allora andiamo verso i nostri ultimi due ospiti Di questo dibattito lungo un po' più credo di un'ora Qui su Eonews e sui canali radio radicale.it Siamo in diretta Tra poco vi daremo anche conto dei risultati del sondaggio che abbiamo promosso C'è adesso Antonio Ranieri Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale Capo Dipartimento Learning and Employability E parliamo con lui del rapporto tra formazione, lavoro del futuro e mercato del lavoro attuale Perché insomma adesso siamo in mezzo a un bel disastro, diciamo la verità In Italia in particolare tra blocchi dei licenziamenti, litigi vari Gente che è stata licenziata, persone che si dovranno riorientare e imparare a fare nuovi mestieri Una scuola che ha funzionato a singhiozzi durante il periodo della pandemia Siamo in una fase di una complessità secondo me enorme Lei come orienterebbe le nuove professionalità E come legge questa fase di transizione dopo non solo la pandemia Ma dopo che avremo e incontreremo evidentemente le secche economiche e sociali della pandemia Nonostante gli aiuti, nonostante i recovery Perché insomma adesso iniziamo un po' a tirare la linea A vedere non solo purtroppo la conta dei morti dell'emergenza sanitaria Ma anche insomma i feriti e i caduti in battaglia Del mercato del lavoro Esatto No, mi sembra una buona idea allargare un po' l'inquadratura E sappiamo che stiamo attraversando una crisi del tutto anomala Come si dice, partita dal lato dell'offerta Che poi ha colpito in maniera simmetrica Che poi significa in maniera casuale dal punto di vista di una logica di tipo economico E adesso ci aspettiamo una ripresa sostenuta Sostenuta almeno per qualche tempo nuove opportunità Però come se avvenisse perché arrivano i soldi In realtà poi sì, arrivano i soldi Però noi dobbiamo essere anche bravi come dire A prevedere quelli che saranno i settori che andranno meglio Cioè in questo senso Hai ragione perché in parte avviene semplicemente in maniera naturale Per il semplice fatto Proprio per l'anomania della crisi Della sua imprevedibilità È molto prevedibile quello che accade Tutta una serie di settori riprenderanno Si rimbalza Poi però bisogna tenere Esatto Allora il problema del tenere Ovviamente è cogliere le nuove opportunità E queste nuove opportunità che ci saranno Anche grazie ai soldi I soldi significa a un recuperato ruolo delle politiche pubbliche Però saranno anche molto diverse Non saranno semplicemente che ritorniamo a quello che c'era prima E ricominciamo a lavorare Avremo bisogni anche da un punto di vista del tipo di competenze Che in gran parte saranno anche cambiati Paradossalmente se vogliamo Anche per effetto Gli effetti che nel tempo produrrà lo stesso recovery plan Perché se è vero che abbiamo un recovery plan Fortemente orientato all'innovazione Alla transizione digitale ed ecologica Questo cambierà le carte in tavola del mercato del lavoro E quindi aumenterà ancora di più Il bisogno di Accelererà il bisogno di cambiamento Anche delle competenze Della popolazione Quindi Per tutti i motivi che sapete Sappiamo quello che abbiamo passato in questi 1-2 anni e mezzo Avremo Ci aspettiamo chiaramente una forte accelerazione Della diffusione delle tecnologie digitali L'emergere di nuovi lavori La scomparsa di alcuni lavori rutinari Diciamo così Ci aspettiamo maggiore necessità di profili specializzati Nelle nuove tecnologie Maggiori competenze digitali in molte professioni Però Il punto più grosso rispetto al tema di oggi È Diciamo la necessità per tutti Di avere almeno delle competenze digitali di base Come requisito minimo Per partecipare Per partecipare al mercato del lavoro Per partecipare alla società Quindi è chiaro che Costruire Diciamo così Una popolazione con competenze digitali adeguate È una precondizione Non c'è dubbio su questo Siamo tutti d'accordo E quello che diceva appunto Susan Conze Sulla formazione continua Perché poi qui bisogna come dire Non solo studiare all'inizio Ma studiare durante e dopo E anche prepararsi ad avere i piani A, B e C Assolutamente noi stiamo battendo sul tema della Diciamo della formazione degli adulti E della formazione continua In una maniera ossessiva Perché secondo noi c'è pochissima attenzione Rispetto alla necessità Dovrebbe essere normale per gli adulti Fare l'equivalente di quello che fanno i giovani Cioè andare a scuola Per loro è normale Anche per gli adulti dovrebbe essere normale Però proprio pensando a quello che ha detto Susan Che ha citato il tema della digitalizzazione Noi stiamo 10 punti sotto la media europea Come popolazione E questo vale anche se stringiamo il fuoco sui giovani Siamo sempre 10 punti sotto 10 punti sotto rispetto alla media dei 27 paesi europei Non alla media dei nostri competitori più diretti Quindi stiamo non messi male E quando andiamo nella scuola Guardiamo agli studenti Noi giovanissimi li consideriamo nativi digitali Perché ci sono nati Ne fanno uso Ma non solo a intuito Ma anche proprio l'evidenza Come centro di ricerche Vorrei dire due cose da questo punto di vista L'evidenza ci conferma la nostra intuizione Cioè il semplice uso spontaneo Non guidato delle tecnologie digitali Non è affatto sufficiente Ad acquisire livelli di competenza adeguati Avere semplicemente dispositivi Utilizzarli Non porta i ragazzi a imparare Come usare le tecnologie in maniera critica E soprattutto Che è il punto Come trasformare Le informazioni che raccolgono In conoscenti E questo in parte Ce lo dicono anche i ragazzi Perché in altri studi Quando si autovalutano E loro stessi ritengono Sì di avere una certa padronanza Se si tratta di competenze digitali Legate alla comunicazione e collaborazione Ma quando si parla di competenze Legate alla creazione di contenuti digitali E soprattutto a risolvere i problemi Utilizzando le tecnologie Loro stessi non si sentono E quindi ci dobbiamo Dobbiamo fare affidamento Sui nostri insegnanti Adesso se ho due minuti Per dire due cose Sui nostri insegnanti Guardandolo in una prospettiva internazionale Sì due minuti Perché poi Diamo la parola anche a Valerio Mamone Però è evidente che Diciamo così Avremo bisogno di insegnanti Che abbiano familiarità con le tecnologie Che hanno positivi nell'utilizzo delle tecnologie A fini pedagogici E che abbiano Delle istituzioni scolastiche Che abbiano un approccio collaborativo All'uso delle tecnologie digitali Ai fini dell'insegnamento E tutti i nostri dati ci dicono Che poi loro In fin dei conti Non si sentono Così preparati Non si sentono così disponibili A far utilizzare queste cose Nell'ambito delle attività didattiche E quindi potremmo dire Hanno bisogno di formazione Come è stato detto prima Io il punto che vorrei fare E poi chiudo Valeria e prometto È che L'impressione Da tutte le analisi che facciamo È che forse Il problema non sia fare formazione Nel senso Il problema non sia fare i corsi di formazione Sappiamo Che Ci sono altre cose Altre modalità di apprendimento Che per gli insegnanti Sono chiaramente più utili Sappiamo che gli insegnanti Trovano più attraenti ed efficaci Attività meno strutturate Anche di natura puramente informale Che possono essere svolte In modo flessibile E soprattutto Diciamo così Sappiamo che funziona tantissimo La partecipazione A reti professionali A forme di collaborazione Scambio Andare a vedere le altre scuole Parlare con gli altri A livello del territorio Nazionale e internazionale Insomma Per chiudere Chiudo proprio Diciamo Il punto che vorrei fare Che si tratta di organizzare Un sistema di offerta Di riconoscimento E di incentivi All'apprendimento professionale Che sia rafforzato Sì ma Non è il punto Di quanta benzina Ci mettiamo Ma sia rafforzato Nelle sue componenti Più innovative Grazie ad Antonio Ranieri Ricordo Centro europeo Per lo sviluppo Della formazione professionale Capo dipartimento Learning e employability Arriviamo Dulcis in fondo Ma è davvero un piacere A Valerio Mammone Direttore di Scuola Di Scuola Zoo Direttore editoriale Che è un progetto Diciamo multimediale Soprattutto sui social Molto interessante Una pagina Che ha oltre 2 milioni Di contatti Insomma Per darvi delle cifre E con lui Diciamo ne approfittiamo Per capire Dal vostro osservatorio Quelle che sono Le esigenze nuove Diciamo Di studenti e studentessi E che cosa Non ha funzionato Durante questa pandemia E che cosa si aspettano Che cambio di passo Si aspettano Da settembre Ovviamente Covid permettendo Poi ti faccio anche Un'altra domanda Se posso Certo Prima di tutto Grazie per l'invito Direi che il mio intervento È un po' il più difficile Di tutti Perché arrivo dopo Esperti Persone delle istituzioni Per cui È davvero difficile Dire qualcosa Che insomma Che poi resti impresso E che aggiunga Il valore Che è già stato portato Cercherò di farlo Facendo quello che Diciamo Mi riesce meglio Grazie Alla realtà Di cui sono direttore Che è a Scuola Zoo Che come dicevi Correttamente È una Una delle più grandi La più grande Community di studenti In Italia Abbiamo 5 milioni Di follower Sui social Una rete Di rappresentanti Di istituto Quindi una rete Una community fisica Che negli anni Ha toccato I 5 mila studenti In tutta Italia Quindi sicuramente Il punto di vista Che io posso portare È il punto di vista Dei ragazzi E devo dire Che le esigenze Dei ragazzi Per quanto E delle ragazze Per quanto paradossale Possa sembrare Durante la DAD Sono state In realtà Un po' Le stesse Che hanno Anche nella didattica In presenza Provo a fare Qualche esempio Anche in DAD Come sapete benissimo E come sanno benissimo Gli altri ospiti Ci sono state Carenze di organico E assenze Da parte Dei docenti Ancora a novembre A dicembre Ci scrivevano Che mancavano Insegnanti Anche di materie Di indirizzo Quello lo ritengo Dal mio punto di vista Un problema strutturale Al quale E le soluzioni facili Sono sempre Anche un po' Banali Quindi Ma ho visto Che nel PNRR C'è tutta una parte Dedicata anche a questo Quindi sicuramente È un'ottima notizia Anche per gli studenti Oltre che per i docenti Dirigenti scolastici Stessi Poi Diciamo L'altro tema Che emerge spesso Nelle conversazioni Con i ragazzi È che Alla fine È il modello didattico Che conta In dad Quanto in presenza Prima Altre persone Prima di me Hanno evidenziato Come La didattica frontale Quindi con il trasferimento Il travaso Quasi Di conoscenze Dal docente Allo studente Sia un modello Che inevitabilmente Finisce con l'essere Poco ingaggiante Per lo studente Immaginiamoci Parliamo di Nativi digitali Che a volte Stanno su tre schermi Contemporaneamente Ecco Questo è un qualcosa Di vero In dad Perché immaginiamo Un ragazzo Che sta per sei ore Davanti a un computer E sente Alternandosi Sei persone Che parlano Verso di lui Inevitabilmente Finisce con l'avere Un calo d'attenzione Ma questo è vero Anche a scuola La stessa cosa succede Anche Anche tra i banchi Per cui mi sento di dire Che forse Il tema Non deve essere Tanto E scusatemi Se magari dico Una banalità Perché ripeto Io sono il direttore Di una destate Non un esperto Però forse il tema Non deve essere Tanto Dad Non dad Quanto Un modello Di insegnamento Che sia Coinvolgente O non coinvolgente Per coinvolgente Io intendo Anche coinvolgente Nei confronti Degli studenti stessi I ragazzi Saper insegnare Diciamo Non è soltanto Guardi Io ricordo Ricordo questa cosa Prima il dottor Versari Parlava di esperienze Che sono state fatte E che già hanno dato I loro frutti Mi ricordo Che nel 2013 O 14 Allora ero Un giornalista Freelance Andai in una scuola Di Fidenza Il Paciolo d'Annunzio Dove una preside Con un finanziamento Di 20.000 euro Preso autonomamente Aveva creato una classe Con un tavolo circolare Molto colorata Che utilizzava Per la cosiddetta Classe rovesciata La flip classroom Che è un modello Ovviamente Qui lo conosciamo tutti Ma Magari nel pubblico No Un modello Che prevede Ricordo i titolami In classe I compiti a casa Cioè il docente Aveva un ruolo Molto attivo Nella classe Andava vicino A persona per persona A sentire Le esigenze dei ragazzi Che tipo di problemi Avevano incontrato Con i compiti Ecco io Ho sentito poi Recentemente Un'intervista sulla RAI In cui si diceva Che questo modello Aveva superato I cinque anni Di sperimentazione Per cui evidentemente È stato adottato Da molte scuole Però la cosa Che mi chiedo è Questi modelli Che poi si rivelano Virtuosi Vengono poi adottati Su larga scala Oppure no È una domanda Che faccio veramente Senza sapere la risposta Da quello che mi arriva Dai ragazzi Ecco Deduco che non sempre Sia così Ma al tempo stesso Deduco anche Che ecco Questi modelli Di didattica Coinvolgente Cooperativa Da un certo punto di vista Possano essere la chiave Da una parte Per i ragazzi Per sentirsi più coinvolti Più attivi E per far sì Che il processo Di apprendimento Sia un qualcosa Che nasce Durante le lezioni Che nasce Durante il percorso didattico Dall'altra Penso E ricordandomi Anche le interviste Dei docenti Penso che questo Possa essere anche Una chiave Per rivalutare Il ruolo straordinario Che gli insegnanti hanno Ovviamente in queste sedi Si tende sempre A mettere in evidenza No ciò che non va Questo per certi versi È stato per la scuola Un anno incredibile Di una prova Di grande resilienza In cui veramente La scuola pubblica Ha riaffermato Il suo grande valore Non era scontato Riuscire a fare Quello che poi si è fatto Però ecco Quello che mi viene a dire Uno spunto dai ragazzi Per settembre Non è soltanto Quello di risedersi Fra i banchi E quello Ce lo auguriamo tutti Perché c'è stata Una perdita di socialità Che ha avuto E spero E spero Non avrà Ma ho quasi la certezza Che avrà Un impatto forte Su questa generazione Però ecco Io spero che Quello che auspicano Per il ritorno in classe È sentirsi più coinvolti Ecco E credo che Le chiavi Per attivare Diciamo Questa sinergia Siano già state individuate E magari grazie al PNRR Saranno effettivamente Estese Su larghissima scala Grazie Ti volevo fare Un'ultima domanda Se hai su questo Qualche suggestione Qualche impressione Sempre dal vostro Osservatorio Di scuola ZO Noi siamo un paese Un po' particolare Un po' bizzarro In cui Studiare di più Non sempre Consente di trovare Lavori migliori O lavori più Remunerativi Le nuove generazioni Quelle che Diciamo Teoricamente Dovranno andare Verso Appunto Gli ultimi anni Di liceo O di istituti Tecnici Come guardano Al proseguo Degli studi E gli studi Universitari O magari Agli ITS Visto che Su questo C'è un'importante Scommessa Anche sul PNRR Anche da parte Il governo Draghi Anche perché Dicevamo Sì va bene La competenza La cultura generale Ma poi appunto Bisogna avere Le competenze Scientifiche Specifiche Tecniche Che saranno Sempre più richieste In questo nuovo Mercato del lavoro In molte regioni Del nord Penso all'Emilia Romagna Ma anche al Trentino ITS hanno Diciamo Dei dati Molto buoni Anche per chi Deve trovare Lavoro Come si stanno Orientando Su questo Le nuove generazioni Beh allora Per quella che è più Che la mia esperienza Da direttore Quanto quella Da ormai Datatissima Io sono in un'aula Scolastica Adesso ma ho più Il physique Di un role Di un docente Che non Di un studente Però io ricordo Che i percorsi Professionalizzanti Almeno in quello Che era il mio contesto Venivano sempre guardati Come percorsi Di serie B In realtà Poi vedendo i dati 80% di occupati Alla fine Del percorso Insomma Si evince Che possono essere Un asset gigante Anche per il sistema Metallica Un sistema Con tanti NIT Con tantissimi Disoccupati Nella fascia 18-24 Quindi Allora Secondo me C'è È rimasto Questo Chiamiamolo Stigma Originario Ma al tempo stesso L'informazione Che è stata fatta Recentemente Gli ITS Gli ha nominati Il premier Draghi Ma sono finiti Anche in tanti Articoli Ecco Contribuirà Forse A farli vedere Sotto una luce Una luce diversa Io onestamente Non so dire Quale sia L'orientamento Dei ragazzi Rispetto a Questi percorsi Sicuramente Tra i ragazzi È forte Il timore Di finire In una In quella Sacca Di NIT O di disoccupati Di cui tanto Si sente parlare Per cui Immagino E spero Che gli investimenti Che proprio Sull'ITS Saranno portati avanti Ho letto Di un certo Per certo Forse riesco a dirlo Cento per cento In più Di scritti Entro Cinque anni È il caldo Si è la giacca Che è stato scritto Sul PNRR E gli investimenti Che saranno fatti Insomma Daranno i loro frutti Quello che posso dire Però Sono due cose Allora Da una parte Che L'ITS Escilienza Al tempo Stesso Però Sicuramente L'ITS Sono Sono realtà Dove la didattica Laboratoriale Oggi ho qualche problema Con la pronuncia È fondamentale È stata fatta Molto poco E quindi Mi viene a dire Che per chi È ancora nel percorso Non esce Non esce quest'anno Sarà necessario Fare un grande investimento Per recuperare Le competenze Perse Perché lì parliamo Proprio di competenze Materiali Che poi diventano Immediatamente Fruibili Nel momento in cui Si accede al mercato Del lavoro Grazie a Valerio Mammone Grazie a voi Direttore editoriale Di Scuola Zoo Che vi invito Tra l'altro A seguire Perché hanno Degli spunti Davvero molto interessanti Grazie per questa Panoramica Dal tuo E dal vostro Punto di vista Noi andiamo in chiusura Ringraziando davvero Tutti gli ospiti Che sono stati con noi E andiamo invece Anche a leggere I risultati Del sondaggio Lanciato Durante quest'ora Di Di appunto Diretta Temi che le competenze Digitali Possano indebolire L'insegnamento Della cultura generale Sì Solo il 25% O no Il 75% Non so Nessuno Quindi diciamo Che La stragrande Maggioranza Non ha paura Di questa transizione Verso una conoscenza Più specifica Che poi sarà anche Quella più richiesta Dal mercato del lavoro Poi vedremo Se ci riusciremo Con i soldi Non solo con i soldi Del recovery fund Ma anche Del PNRR Italiano Ma anche Con l'impegno Che noi tutti Giovani E vecchie Generazioni Dovranno mettere Per aiutare Il paese Insomma A risollevarsi Grazie Grazie davvero a tutti Io ringrazio E rielenco I nostri ospiti Che sono stati con noi Riccardo Nencini Senatore Presidente della Commissione Istruzione Victor Negresco Deputato europeo Susanne Conze Della Commissione Europea Capo dell'unità Country Analysis In Education Grazie a Stefano Versali Del Ministero L'Istruzione Grazie ad Antonio Ranieri Centro europeo Per lo sviluppo Della formazione Professionale Grazie a Valerio Mammone Direttore editoriale Di Scuola Zù Grazie come sempre Grazie a voi A tutti gli amici E colleghi E colleghe Di Eonews Per questi interessanti Spunti Di riflessioni Che vengono Da queste Da questi incontri Online Queste dirette Sui canali Di Eonews.it E ovviamente I social di Eonews E che sono andati in onda Anche sul sito Di RadioRadicale.it Per questa volta è tutto Grazie E spero Alla prossima